buona a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo video andremo a giocare una bella partita di Fortnite Battle Royale e niente direi di non perderci in chiacchiere e di buttarci subito andiamo a Soltyspring facciamocela un po' tranquilla questa partita non voglio buttarla andando a Tilted ovviamente anche a Soltyspring non è che non la buttiamo però giocherò con il mouse e tastiera anche se mi torna male cioè mi torna meglio col pad scusate perché appunto voglio migliorare sempre di più ecco, usando il mouse, stavo per dire un'altra volta il pad ovviamente appena atterri non può che capitarti una pistola questo già sono più felice di averlo, andiamo un attimo l'inventario lo si stanno un po' stranamente ma vabbè un po' l'eittato ho fatto uno ok, vediamo di farci gli altri che ho sentito diverse cose che non mi piacciono assai punto continuo a sentire oh fanculo va ok abbiamo finito il medikit continuiamo dove li abbiamo uccisi ovviamente io come sempre faccio cagare perchè l'ho ciccato tutte le volte che lo devo prendere ma vabbè quelli sono altri dettagli quello lì ci ha visti sto aspettando che cacci la testina però l'ho visto anche un po' di là che ho preso gli ho fatto anche un bel po' di danno sinceramente parlando quando si è morti cacchio eh vabbè ci ho provato troppo dai buttiamoci subito all'opera e ne facciamo un'altra ok visto che prima abbiamo fatto una bella partita assolti in spring direi di ritornarci senza pensarci due volte quello è atterrato sopra l'albero frate molto probabilmente morirai e se non muori bravo te bravo te bravo te ok tiriamo qua sono atterrato davvero malissimo quello qua sopra di me c'ha già un'arma e porca puttana sono morto devo correre devo correre devo correre qua ci ho visto un altro tipo ok sono in pratica morto no ma perchè ahi ma bravo ragazzone sono un bravo ragazzo perchè mi sparate io me ne so vado subito cosa venire qua giusto per trovare un'arma ma sembrerebbe non esserci fuck dolore che fucking dolore forte vi ho preso che fucking dolore 30 di vita manco quando mi restano c'ho 30 di vita uh meno male che ci esistono i fallov confortevoli ambientali o come gazzos se li chiamano almeno un po' di vita ce l'abbiamo ragazzi rifacciamocela un attimo e poi ricombattiamo e noi torniamo a combattere quel poco di vita che lo siamo fatti oh oh damn son look at this look at this wrong madonna se lo piglio in testa lì era tipo bro chill allora a me quando gioco non mi viene tanto da parlare perchè mi devo più che altro concentrare quindi se vedete dei punti morti in cui sparo e non parlo è per quello ok capito ok bravo cazzo ecco quando vi dicevo che c'evo dei capelli che facevano cagare anche se quel ledshot mi è piaciuto molto siamo sulla terza partita e ovviamente ci ributtiamo solti spring e andiamo a vedere un po' che palle c'è uno sopra madonna di doveresse morire il cane che morisse il cane è bene ed è morto pure la mamma quanto mi diverto ad ammazzare i nemisi bene questo qua non c'era nemmeno dato gli shield quanto god armiamo un pochino di mazzo ok abbiamo anche il bel pompa questo bel pompone oh cazzo sto arrivando non chiedetemi che cazzo era solo una via per salvare magari questo ancora dentro la casa sì che c'è sono cagato sotto è difficile trovare nambi così nel mondo dolce vi giuro mi sarei aspettato tutto tranne che fosse nab vedete se c'è qualcuno ho già capito c'ho il cazzo dentro c'ho una siano che mica volta per questo video è tutto spero vi sia piaciuto ovviamente io faccio cagare a fortnite perciò è per questo che muoio anche se uso il fucking pad arrivederci